Oggi il giretto impegnativo, il solito giro sulla strada per arrivare in zona maresana. Direzione centro di Bergamo Il nostro corso gratuito è una strada per la nostra strada per i Giacchini. La strada per la nostra strada per i Giacchini è passato a guadagnosi e raggiungi. La strada per i Giacchini è passato a guadagnosi e un'altra strada per i Giacchini. Ah Dura 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 Maresana Finita la salita Spero Adesso ci aspetta una bella discesa Prima il trasferimento E poi giù fino a San Rocco Tirannica Fontanina Che funziona anche in inverno Inizio dal sentiero Inizio 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 Grazie a tutti. Pronto? Ma va, fa' il culo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sola. Chiesina di San Rocco. Per il posto, però ho discesa, sono fuori allenamento, sono una chiavica, si può dire chiavica? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.